Il prossimo ospite che vado a presentare è Chiglia Ruggero, ha frequentato il liceo artistico Ego Bianchi di Cuneo è la seconda volta che si esibisce, ha scritto tante canzoni che sono lì nel cassetto e essendo la seconda volta che si esibisce voglio fargli attraversare questo momento in maniera molto soft la canzone che va a proporci è l'ultima corrispondenza, un grosso applauso a Chiglia Ruggero Grazie E' arrivata l'ultima corrispondenza E l'aprirla non è a lei, volge il ricordo Ma al signore che frenò la tua ruenza quando a cento allora rotto da di giù Dal paese vecchio, da un sogno distratto E cantò il suo disappunto per le opere di Chiostro E in questo tempo nostro creano solo un gran disastro E ti saluto ridendo dopo averti raccontato Di quando vagava per l'Italia in sella alla sua moto E ti disse stai attento o qualche giorno andrai a spiaccicarti sugli scogli E ti inghiottirai il mare E ti inghiottirai il mare E ti salverai il mare Ricordi Come lei rideva Ricordi Come lei rideva Ricordi Come lei rideva Come lei rideva Come lei rideva Ricordi Nella sera lei giocava con un tocco da campione E tu la guardavi in mezzo al caos del bulimiluano E ne aveva stesi già 99 Quando lei chiedesti di seguirti fuori Fuori dal gioco, fuori di voi Ricordi come lei rideva Ricordi come lei rideva Ricordi come lei piangeva Ricordi E' arrivata l'ultima corrispondenza Forse un giorno giù dai monti ti riverserai Ed andrai a suonare alla sua porta Con una corda di chitarra in mano E le stringerai il collo E la bacia che hai sul 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 collo